e ciao a tutti io sono rody e benvenuti su modville oggi ho intenzione di espandere un pochino questa parte più bassa della città andare a connettere questa autostrada al resto in modo da fare un secondo collegamento che possa portarle auto qua giù senza dover attraversare tutte in queste intersezioni e poi vedremo il resto che ci rimane da fare quindi innanzitutto il mio pensiero era quello di andare a prendere un'autostrada e andare a fare praticamente una sopraelevata fino a quest'isola secondo me non è una brutta idea quindi contiamo che devo fare anche una curva di 20 voglio arrivare a questo punto qua per cui con un precision engineering si è andata a bugare quindi andiamo subito a risolvere il bug che non è un problema basta spuicciare tra metrico imperiale e poi viceversa e adesso dovrebbe funzionare di nuovo perfetto adesso vediamo le distanze allora la distanza che ci serve è circa 80 si facciamo 70 che è meglio quindi possiamo fare un 50 pulito e questo non è un 50 pulito secondo me è un 51 perché il gioco si è mosso all'ultimo perfetto andiamo a connettere e poi facciamo un bel 20 come detto qua magari abbassiamo di 1 che 13 mi fa schifo come altezza e mettiamo un 24 qua ok dopo abbiamo un intersezione che è già in aria così certo che l'abbiamo anche se è un po' tanto grande devo essere sincero per un'isoletta come questa però possiamo fare un accesso via ponte qua quindi non è quel gran problema no faremo un'intersezione manualmente più più piccola non ha senso fare una cosa così grossa detto ciò andiamo qua in fondo con un 100 ecco qua facciamo un altro 10 e poi mettiamo la modalità ponte perfetto poi rimettiamo la modalità sopraelevata ok allora direi di farlo andare giù a questo punto anzi direi ancora meglio di fare una cosa ancora più interessante direi di fare una cosa di questo tipo facciamo così poi facciamo così ok e poi qui facciamo un'ultima curva quindi tiriamo su di nuovo bel 12 anche qui un bel 12 e poi 24 perfetto e un bel 20 ok e poi possiamo chiudere l'intersezione lì poi vediamo cosa fare ora dobbiamo collegare questi e andremo a sfruttare network multi tool per farlo quindi facciamo così facciamo così perfetto e andiamo a fare così e andiamo a fare così magari questo facciamolo a terra però ok e infine per l'intersezione qua alla fine intanto possiamo far andare avanti un po' la città vediamo cosa fare sicuramente mi farebbe comodo averne una quattro così poi possiamo andare dietro e avere delle industrie in cui qua giù quindi una cosa carina sarebbe proprio questa perché ci porta proprio là in mezzo ok quindi dobbiamo distruggere un po' di strade per arrivare finì dobbiamo anche aggiustare un po' di curve ma non è un problema ok allora possiamo fare una cosa così perfetto raggata grazie quindi dobbiamo aggiustare questo dobbiamo fare altri 10 credo ad occhio andando a misura spannometrica direi che sono altri 10 tu non dovresti essere più basso però questa cosa mi dà fastidio bro ok e anche tu al pari grazie ok quindi adesso potrei andarli a collegare direttamente in teoria sì 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 non è male però preferisco farlo manualmente mi sa a questo punto quindi è un 30 va bene così dai quindi tu sarai un 26 ecco qua ed ecco qua ok questa mi piace molto di più ora andiamo a collegare infine questa parte finale il nuovo strumento curva perfetto perfetto e poi dall'altro lato ok bella laggata bro perfetto ora l'unica cosa che non mi piace è questa parte qua questa parte qua è scesa in un modo strano che non mi piace proprio per cui io credo che farò una cosa che è un po' troppo grosso sto bash sì non è quello che dovevi fare ma va bene ok facciamo una cosa così dovrebbe essere un po' più umana diciamo ok adesso andiamo già meglio e poi possiamo fare qualcosa così non è proprio perfetto ma non posso chiedere più di tanto anche se potremmo fare un altro piccolo tocchetto qua potremmo sfruttare questo e fare così ok adesso andiamo meglio tu devi diventare uno slope grazie ok di qui siamo tutto a posto di qui è tutto a posto poi è tutto a posto poi è tutto a posto ok ha un po' poco senso questa faccenda qua quindi vediamo di sistemarla subito perché se mi parti così bro e poi mi vai così mi va un po' strano ok stessa cosa qua tu devi arrivare qua sopra quindi cosa mi scende lì 12 idem qua tu devi arrivare qua sopra quindi che fai ecco qua tu devi arrivare qua quindi vacci con calma e tu devi arrivare qua quindi anche te vacci con calma ok adesso dovrebbe essere un po' più realistico e utilizzabile perfetto andando a riattivare adesso dovremmo iniziare a vedere qualche auto che arriverà anche da quel lato che ci farebbe molto comodo quindi qua in mezzo abbiamo detto che faremo l'intersezione ora c'è il problema dell'altezza che qua fa un po' schifo quindi adesso è tempo di abbassare l'isola intera intanto non mi serve un'isola così alta e un'isola piatta sarà molto più facile da gestire ecco qui le prime auto perfetto adesso l'isola è più bassa e anche utilizzabile oserei dire qua vedo che sono tante auto che tirano dritto spero che arrivino dalla parte giusta non stavano facendo un giro a caso ma ok 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 quello che abbiamo costruito va mi ritengo soddisfatto quindi qua noi abbiamo da creare un'intersezione faremo qualcosa di estremamente semplice fatemi dare un secondo occhio giusto per essere sicuro che qua non abbiamo niente di utile qua abbiamo letteralmente la cosa inversa che oddio potrebbe anche aver senso sinceramente però a questo punto forse un single point interchange è meglio vediamo un po' si a questo punto una spuai sarebbe molto meglio ma si ma si facciamo uno spui dai quindi possiamo fare una cosa di questo tipo tu ti abbassi fino a terra tu idem poi facciamo ancora meglio un pezzettino magari a terra ho detto terra ho detto grazie gli diciamo tu e tu dovete copiare l'altezza di questo ok poi andiamo da quest'altra parte gli diciamo tu e tu dovete copiare l'altezza di questi ok e ora gli diciamo tu fino laggiù devi essere uguale tu fino laggiù devi essere uguale poi da te a te dovete andare in discesa e da te a te in salita stessa cosa qua giù uno o due dovete andare in discesa e l'altro in salita perfetto ora non ci rimane che prendere di nuovo l'autostrada e renderla tutta un'autostrada normale invece che un'autostrada sovraelevata all'altezza 0 e voilà adesso possiamo mettere lo spui senza problemi quindi ci serve un po' di spazio io direi di fare una cosa di questo tipo spero che basti basta basta e quanto pare non gli piace nemmeno quindi andremo a mano perfetto mettiamo anche una quattro corsia all'ingresso così mettiamo anche dall'altra parte poi la mettiamo qua e la mettiamo qua ok qua mancano completamente le robe di TMP per qualche ragione quindi le andiamo a mettere a mano perfetto e dall'altra parte come al solito non li mette tutti quindi le andiamo a mettere noi quelli mancanti ora il problema è su questi tocca metterli a mano quindi facciamolo prima che si presenti il traffico sarebbe un grosso problema farlo col traffico questo ok il semaforo c'è rimasto il semaforo si ok almeno quello e qui possiamo andare a costruire letteralmente fare la nostra città qua pensavo di fare qualcosa stile Manhattan stile tanti palazzi poche casette direi e possiamo andare a sfruttare anche questa isoletta questa isoletta potrebbe diventare che so un mini porto una zona industriale non lo so non lo so dobbiamo vedere dobbiamo vedere di sicuro però non voglio che quella sia l'unica intersezione vorrei mettergiene anche un'altra voglio rifare qualcosa che esce da qua e aggiunge un pochino di entrate e uscite stessa cosa dall'altro lato però quelle le faremo quando poi avremo una griglia perché si in questa parte faremo una griglia finalmente allora vediamo un po' come la possiamo mettere le due strade principali ci sono non credo che abbiamo bisogno di molto altro detto sinceramente possiamo fare una cosa così andiamo a tirare su 12 135 perfetto e poi qui ci faremo una rotonda qualcosa del genere possiamo mettere vediamo un po' un po' di collector ma si mettiamo un po' di collector normalissimi facciamo qualcosa di questo tipo ne mettiamo una qua e una alla fine una qua ok stessa cosa qua ne mettiamo una che va giù una che va su bella laggata bro ok questo non ha molto senso di esistere possiamo anche piazzare una strada qua sotto direi allora vediamo un po' possiamo fare una cosa così così poi leviamo questo così vediamo davvero non ci stai qua sotto ah ecco ecco ci stai ho capito perché così ci sta e così no quindi io me ne frego vado a usare l'anarchia ok possiamo fare una cosa di questo tipo detto sinceramente e andare a fare così questo vuole anche dire fare una cosa di questo tipo però possiamo fare una cosa di questo tipo ok così abbiamo un altro collegamento lì sotto ora quello che volevo fare prima possiamo farlo qua quindi possiamo fare una cosa di questo tipo volevo fare prima e e possiamo fare una cosa di questo tipo questa poi la andiamo a invertire ok e poi dobbiamo farne una qua sotto che adesso provvediamo subito a fare quindi andiamo a prendere la 4 come siamo messi a livello ok va bene va bene tanto qui lì riempiamo di hotel e qui possiamo mettere bella laggata bro bella laggata bro un'altra autostrada andiamo a collegare queste e quelle au ok andiamo a collegare questi due ok un abbozzo di griglie cose utili ce l'abbiamo ora io voglio però anche un ponte europeo due corsie magari anche sei corsie davvero o quattro sei ok possiamo fare una cosa di questo tipo bro dovevi essere in formato bonte te bro ok poi possiamo fare qualcosa così tiriamolo un po' su perfetto perfetto ok e vediamo poi possiamo sempre tirarlo su se necessario ok 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 mi ritengo abbastanza soddisfatto per il momento quindi abbiamo l'ingresso qua dentro abbiamo uno due tre e quattro e poi abbiamo il cinque che viene da di qua perfetto abbiamo cinque ingressi all'isola tramite cinque ponti credo che vada abbastanza bene ora adesso che siamo a posto qua direi di concentrarci un pochino su qualcos'altro per il tempo rimanente quindi stavo pensando di iniziare a fare il porto come vi avevo detto volevo fare un porto qua in basso ed è quello che andremo a fare ora la primissima cosa sarebbe mettere il dipot delle ferri qua e quindi ce lo andiamo a mettere poi andiamo a mettere un ferri pier qua magari non con questo angolo orrido grazie anche se credo sarebbe meglio infilarlo qua in mezzo sinceramente ok poi ne mettiamo vediamo un po' per il momento facciamoli tutti e due tanto non importa ne mettiamo uno qua sotto tanto possiamo poi farlo arrivare là e uno lo mettiamo qua che abbiamo che abbiamo anche quest'area da sviluppare qua sotto perfetto ora dobbiamo andare a collegare un po' di strade quindi questa sarà abbastanza semplice perché abbiamo già il collegamento non ce ne frega più di tanto ok ok e questa la possiamo far andare vediamo un po' così così e così questa poi la trasformiamo tutta in quattro corsie andando a usare upgrade un touchables ha funzionato nope ha funzionato nope ancora forse ho capito sta mod cambia continuamente io non mi ricordo mai cosa cosa come è cambiata non mi ricordo ok ok vemus papam e qui possiamo fare un altro distretto abitativo poi questo possiamo fargli continuare la curva farlo finire la ok e quindi possiamo chiudere con una cosa di questo tipo così abbiamo un collegamento completo e qui possiamo mettere un'altra zona abitativa poi dobbiamo andare a collegare questo come prima direi di fare con quella 2 quindi di nuovo tu non dovresti essere sopraelevato però così mi manca road access perché sei sopraelevato che dovresti essere a terra no cioè letteralmente a questo punto no ti lascio con la tua stradina normale non ho capito quale sia il problema mi scusi se io lo vado a riattivare no no e va bene bro allora lo facciamo a modo mio visto che non ti piace lo facciamo così e adesso non mi puoi più dire che non va bene eh insomma adesso non mi puoi più fare scherzi l'abbiamo fregato l'abbiamo fregato ora andiamo giù ma possiamo farlo letteralmente di 2 3 dai perfetto possiamo fare una cosa di questo tipo così abbiamo poi un collegamento laggiù per quanto riguarda questo non dovremmo avere problemi stavolta ok meno male e possiamo fare una cosa di questo tipo vediamo un po' e lì in mezzo possiamo poi costruirci non mi sembra un brutto affare ora non ci rimane che fare il percorso quindi qua in mezzo avremo anche la possibilità di avere la la ship path normale dopo per i cargo e per i turisti ottimo quindi iniziamo a costruire la path sperando che qua sotto ci passi nope dobbiamo tirarlo un po' più su dobbiamo tirarlo un po' più su ci va a passare così sì così ci passa ok vediamo di sistemare questo ok ora facciamo una cosa di questo tipo e una cosa di questo tipo poi facciamo una cosa di questo tipo e poi facciamo così ok non ci rimane che mettere il collegamento quindi ok poi facciamo dalla parte qua alla parte qua e indietro perfetto e poi facciamo il giro lungo da qua da qua e indietro perfetto mi ritengo soddisfatto poi se ci sono troppe navi le andremo a togliere così dovremmo ulteriormente andare a ridurre il traffico che schifo non mi farebbe e adesso possiamo sviluppare tutta quest'area ma lo faremo nel prossimo episodio detto ciò ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti